un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale oggi presentiamo un saggio appena pubblicato dalla terza davvero interessante è vero lo dico per tutti però questo lo è veramente e lo è tanto si intitola storia del mare e l'autore Alessandro Vanoli che abbiamo l'enorme piacere di avere con noi e al quale come mia abitudine io lascio subito la parola per non rubargli altro tempo e per ascoltare cosa ci racconta del mare grazie grazie infinite Maurizio grazie grazie a tutti voi e beh allora a questo punto se se deve essere spot lo sia in maniera eclatante per lo meno e quindi eccomi qua con tanto di enorme gigantografia del del libro e e del polpo che è stato disegnato in copertina tolta la gigantografia del libro che ritorna alle mie spalle a questo punto provo a raccontarvelo dunque allora e sono in un contesto di 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 medievisti o di o di appassionati di medievistica e quindi la premessa necessaria che ha una scala questo libro un po' più ampia di quella di un medioevo in realtà è la scala che eh che che è determinata dal soggetto e il soggetto è un soggetto molto complicato è un tipo di libro a cui ho pensato per un sacco di anni dopo essermi occupato per tanto tempo dal punto di vista diciamo così più professionale di mediterraneo mi sembrava che allargare la veduta fosse diventato quasi una fisiologia delle delle cose che facevo e quindi di allargarsi in allargarsi alla fine sono arrivato agli oceani e mi sono detto che forse era quasi il caso di di provare a trattarli in questi termini e cioè provare a raccontare una storia del mare anche perché eh questa storia stava sotto traccia eh a ai miei ricordi da bambino che sono poi quelli che forse in un certo senso hanno determinato tante cose di cui mi sono occupato dopo eh io ero un grande appassionato negli anni settanta del di quei documentari che cominciavano a circolare per la televisione e di quei libri che circolavano accanto ai documentari gli autori erano folcoquilici Jacques Cousteau era la prima volta che si ascoltava e si vedeva qualcosa di mari lontanissimi noi oggi diamo per scontati che i mari siano sempre stati a nostra disposizione perché è talmente tanta l'abitudine di vederli in televisione di vederli anche dal vivo chi ha la fortuna di potersi fare qualche viaggio un po' più lontano che sembra ovvio che i mari siano visibili eh e siano sempre stati a disposizione del nostro sguardo invece non è tanto ovvio prima degli anni settanta eh chi ha qualche annetto in più del di un normale tiktoker si ricorderà che le cose non erano proprio così quei mari si cominciavano a intravedere per noi occidentali va da sé solamente in quel momento era la prima volta in cui i documentaristi sperimentavano viaggi così lontani ed era soprattutto la prima volta in cui qualcuno sperimentava l'andare sott'acqua in senso non solo sportivo ma in senso anche appunto tecnicamente documentaristico e quindi era la prima volta in cui vedevamo i pesci cominciare a interagire pesci bellissimi tra l'altro in questi posti stupendi in queste barriere coralline in questi mari tropicali via dicendo e io rimasi estasiato da tutta quella roba non solo era un'estasi di carattere cromatico e di carattere naturalistico era anche un'estasi di carattere narrativa per la verità perché eh quel tipo di racconto aveva una eh pretesa antropologica in quegli anni eh che era quella di raccontare tutto sostanzialmente cioè di raccontare gli uomini all'interno di quel mondo di raccontare i luoghi più lontani e le loro culture e di raccontarli assieme ai pesci agli animali agli uccelli marini alle agli scogli alle correnti e via dicendo ecco io ho provato a rifare questo esattamente l'idea era proprio quella di ritrovare quel spirito e così mi sono detto che dovevo provare a fare un racconto dove ci fosse più o meno tutto cioè il mare con la sua geologia con le sue forze eh antichissime con gli animali che lo popolano da sempre e naturalmente con gli uomini con gli uomini con i loro viaggi con i loro miti con tutto quello che si è costruito attorno al mare ecco questa qua sostanzialmente la mia storia del mare poi essendo io uno storico eh ho inevitabilmente preso la direzione del tempo e cioè mi sono detto che dovevo cominciare dall'inizio per finire all'oggi e l'inizio quando fai i conti con tutta quella roba beh l'inizio è quasi inevitabile ha un senso forte quasi biblico se volete in principio e quel principio è circa 4 miliardi di anni fa la terra è un po più vecchia di così ma 4 miliardi di anni fa è il tempo in cui ormai i geologi sono abbastanza convinti che ci fosse l'acqua e che dunque ci fosse il mare non era proprio lo stesso mare era H2O certo ma era piena anche di sostanze decentemente tossiche in quel periodo era un mondo a dir poco alieno la luna era ancora molto vicina alla terra si era scaccata relativamente da poco e difficile immaginare che colori potesse avere quell'atmosfera irrespirabile che circondava il tutto i vulcani e non era tanto un problema di vulcani quanto di terra quella che c'era comunque esplodeva e continuava a vomitare lava e però il mare era lì non solo era lì ma c'era e ormai anche su questo i geologi sono piuttosto convinti c'era al suo interno la vita naturalmente in una forma assolutamente microscopica quelle che quelli che chiamiamo cianobatteri o alghe azzurre sostanzialmente le più antiche tracce fossili di quelle cosine le hanno trovate più o meno attorno ai 3 miliardi ai 3 miliardi 500 e 3 miliardi virgola 5 anni fa in realtà probabilmente dicono sempre i geologi si può andare un po più giù quindi forse 4 miliardi d'anni fa la vita è già lì che fa abbastanza impressione a pensarla così ecco quella è la scala su cui bisogna esercitare un po la nostra la nostra mente quando cominciamo a ragionare su su una storia di questa natura c'è un gioco che ormai è datatissimo è una roba che ha alle spalle decenni e decenni di divulgazione scientifica ma che io ho ripreso e riprendo qua assieme a voi perché aiuta a darsi l'idea dello schema e cioè se dovessimo considerare tutta la storia del mondo o perlomeno della terra nello spazio di un anno solare più o meno le cose funzionerebbero così quella strana vita comincerebbe ad apparire quella di cui abbiamo parlato adesso attorno a marzo poi più niente per una marea di tempo c'era dottorno ad ottobre comincerebbero ad arrivare alcuni esseri dotati di ossa e di cartilagini poi e poi poco alla volta le cose accelererebbero moltissimo i dinosauri arriverebbero alla spicciolata attorno agli inizi di dicembre e poi più su poco alla volta gli uomini quelli o anzi proprio cominciando da da quelle da quegli esseri un po più scimmieschi che cominciarono a scendere dagli alberi beh gli uomini arriverebbero più o meno sugli ultime ore del trentun dicembre e via via con grande velocità tutto il resto i nostri tempi storici cioè quelli di cui ci vantiamo tanto dalle piramidi passando per i romani che costruiscono che costruiscono un impero poi i barbari e poi e poi grandi regni medievali poi napoleone buonaparte viva l'italia e tutto quello che segue beh tutto quello starebbe negli ultimi secondi del trentun dicembre e nell'ultimo fotogramma noi con lo spumante in mano ecco con questa con questa dimensione spaventosa si deve avere a che fare quando si pensa alla storia del mare il mare è lì infinitamente prima di noi e anche gli esseri che lo popolano sono stati lì per un periodo infinito quasi prima di noi ci sono state ere geologiche lontane in cui solo il mare è stato popolato i roviti ne abbiamo a casa tutti più o meno o almeno quelli un po appassionati di 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 fossili ce l'hanno quei cosini con tutte le righine che insomma vabbè nessuno entro nel dettaglio perché devo parlare anche d'altro e naturalmente poi i dinosauri incidentalmente i dinosauri in acqua non ci sono mai stati è un errore è un piccolo errore è quello di vedere negli animali marini giganteschi dei dinosauri i dinosauri non riuscivano mai a colonizzare il mare andò meglio poi ai mammiferi cioè quelli che colonizzarono il mare erano rettili ma non erano dinosauri giusto per giusto per chiarirci andò meglio ai mammiferi che poco alla volta trovarono la via del mare e sono rimasti lì ad occuparsela per un sacco di tempo e li abbiamo ancora lì e dovremmo anche rispettarli per questo perché sono lì da ben prima di noi le balene i delfini e via dicendo ecco tutta questa è una storia che ci riguarda inevitabilmente o perlomeno che fa parte dello sfondo su cui ci si deve muovere quando si pensa a una storia del mare perché poi è chiaro se uso la parola storia e faccio lo storico è inevitabile ed è anche giusto dal punto di vista diciamo di metodo che io applichi questo termine all'idea della presenza umana perché è quella che si dice quando si fa storia la storia è la scienza dell'uomo nel tempo diceva mark blocchi aveva perfettamente ragione e quindi sia pure che teniamo la barra sull'uomo nel tempo ma se si parla di mare questo gioco beh deve implicare secondo me tutto il resto perché quel tutto il resto non è semplicemente quello che precede l'uomo e quello che ehm condiziona l'uomo e quello che eh definisce le radici dell'uomo e via dicendo e quindi è molto importante tenerne conto e tenerne conto anche della dimensione temporale quindi l'uomo l'uomo a un certo punto beh insomma sceso dagli alberi si fa strada in maniera convinta verso il mare ma perlomeno insomma verso verso l'acqua perché comunque deve bere tanto per cominciare e oltre al bere deve anche trova utile forse pescare quei primi tempi non possiamo neanche immaginarceli non lo sappiamo alcune cose possiamo intuirle c'è qualche antropologo che ha detto anzi che l'uomo sembra essere fatto in maniera quasi sospetta per l'acqua perché è una mammifero particolarmente glabro perché il suo corpo funziona immediatamente bene nell'acqua in effetti è vero se prendete un neonato lo buttate nell'acqua il neonato comincerà a muoversi se prendete una scimmia e non fatelo mai la scimmia invece poverina andrebbe a fondo ecco questo questa differenza ha fatto sospettare in anni ormai lontani qualche antropologo e pieno di fantasia al fatto che l'uomo avesse adattato se stesso in maniera importante all'acqua in tempi antichissimi oggi si pensa che sia un po' un'esagerazione ma di fatto dietro quella generazione c'è sicuramente però un'abitudine che divenne forte lo sappiamo perché non solamente i sapiens ma anche neanderthal si nutrivano di molluschi e di pesci questo ormai è piuttosto piuttosto risaputo e piuttosto studiato sappiamo che si addornavano di conchiglie sappiamo che il rapporto col mare era una roba seria vediamo addirittura cacciatori con la fiocina dipinti nelle pareti delle 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 più antiche grotte abitate quindi vuol dire che questa abitudine al mare c'era naturalmente e fu fatta di una pesca primordiale ma fu fatta anche di una sfida al mare quella sfida al mare passò anche attraverso la necessità di dominarlo attraversandolo perlomeno navigandolo come funzionasse anche questo non è chiarissimo però è intuitivo perlomeno si prendono dei tronchi e li si scava oppure si prendono dei tronchi e li si legano assieme nessuno sa che se abbia cominciato prima l'uno prima l'altro però più o meno quello era il meccanismo di base e con quel meccanismo di base si fecero un sacco di cose si colonizzò un sacco di mondo complice anche il fatto che l'era glaciale aiutava un po' attorno ai 50 40 mila anni fa le il ghiaccio era sicuramente così esteso e così sviluppato da far sì che il mare si fosse ritirato in maniera cospicua ormai sono abbastanza convinti gli studiosi fu per questo che gli uomini riuscivano ad arrivare in australia perché c'era meno tratto di mare da fare probabilmente si scendeva un po giù e si risaliva dopo aver magari coperto un po di di tratto di mare ma niente di così devastante il problema sarebbe stato poi tornare indietro infatti non si tornò indietro poco alla volta l'acqua colmò quegli spazi immensi e un po di umanità rimase isolata in quelle in quelle che sono diventate a quel punto sì vere e proprie isole e poi è successo di tutto naturalmente bisogna dobbiamo accelerare un po perché bisogna anche poi salutarsi ad un certo punto successi di tutto vuol dire che cominciarono a usarlo in mare in maniera molto più molto più tecnologica e cominciarono intendo grandi imperi o grandi civiltà giusto per stare vicini al nostro mediterraneo ma si potrebbe parlare anche si dovrebbe parlare anche cinesi giapponesi via dicendo nel nostro mediterraneo furono i fenici furono i greci che cominciarono a sviluppare navi sempre più imponenti biremi all'inizio tre remi dopo che non è che abbiano tre remi è lo chiarisco per i quattro che non lo sanno e cioè era sempre sono tre ordini di remi quindi una struttura estremamente complessa in realtà normalmente una vela a quadra centrale una capacità di stringere il vento relativamente modesta ma navi che andavano decisamente veloci e tutte queste cose erano legate anche a un tipo di navigazione che andava sviluppando se si navigava di cabotaggio usando le stelle usando le correnti usando soprattutto i venti e si navigava dunque vicino alla costa usando magari le isole come ponte funziona così nel mediterraneo funzionava ovunque il mediterraneo non era un limite perché comunque gli oceani fuori permettevano lo stesso gioco sì cioè detto in un'altra maniera già i fenici navigavano nell'atlantico naturalmente non in mare aperto ma navigavano lungo le coste questo sì ne abbiamo prove aiosa naturalmente non fosse altro che conosciamo benissimo i porti che venivano utilizzati sono stati scavati studiati e vanno dal marocco passando per la penisola iberica arrivando su su verso la francia l'inghilterra quant'altro storia lunga che poco alla volta si trasforma anche in una storia commerciale di successo perché se c'è una storia che fa la differenza per moltissimo tempo quella di un mondo che si lega grazie al mare dall'oceano indiano sino al mediterraneo e quel mondo fatto di commerci di spostamenti di spezie di tessuti di tantissime altre cose che conoscevano i greci di alessandro magno conosceranno i romani che descriveranno nel dettaglio su come ci si spostava in quegli spazi immensi e sarà plinio il vecchio soprattutto a descriverlo nel sesto libro del suo libro sulla natura e e saranno naturalmente scusate mi saranno naturalmente i musulmani dopo che quello spazio immenso erediterà si prenderanno anche con la forza e diventerà di fatto il nucleo del loro impero impero commerciale ed è una storia ed è una storia secolare quasi millenaria che segna un senso profondo del mare poi bisognerebbe poi arrivare oltre e saltando inevitabilmente la marea di miti e di storie che tutta questa avventura produce e che però mi ha divertito tantissimo provare a rimettere assieme ovviamente si va dalla bibbia passando per romero e non in sequenza cronologica e badate bene perché forse probabilmente l'altro dal punto di vista della scrittura almeno del testo scritto prima o meno poi poi il testo così come lo conosciamo nel testo biblico ma di fatto in realtà sono miti antichissimi ed è impossibile dire quando siano nati quelli del diluvio quelli di un di viaggiatori sul mediterraneo come i miti legati ad ulisse via dicendo ecco tutta questa serie di storie è parte della nostra della nostra della nostra eredità marina e c'è un dopo ancora più complicato in questa storia ed è un dopo fatto di un salto di qualità impressionante letteralmente impressionante perché qualsiasi avventura sul mare non ha un prima e un dopo la fine del medioevo ed è un prima un dopo assoluto perché cambia la tecnologia da una parte poco alla volta già alla fine del già nel quattrocento è evidente che le vecchie galè sono ampiamente superate che si sta sperimentando sempre di più sull'atlantico con navi come si direbbe oggi molto più performante cioè ovviamente il le navi simili alla caracca o alla caravella sostanzialmente una un'alberatura molto più complessa tre alberi tendenzialmente un fasciame e molto più molto più resistente cosa non è rilevante un 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 timone per manovrare centrale che rende il tutto ancora più agile e la possibilità grazie a questa a questa alberatura e questa velatura che adesso si lega una possibilità di stringere il vento e dunque di muoversi su spazi in maniera molto più articolata beh assolutamente innovativa e con questo tipo di strumenti che si comincia ad affrontare davvero l'atlantico e il salto di qualità non è tanto all'inizio la scoperta dell'america certo è notevole o tra parentesi c'erano sì è noto ormai c'erano arrivati prima i vichinghi e questo fa parte di questa lunga storia è una grande è un grande classico per gli appassionati di medioevo ricordarsi che i vichinghi nel dodicesimo secolo più o meno erano ancora dalle parti dei banchi di terra nova però c'è una differenza sostanziale vichinghi al certo punto se ne vanno probabilmente perché non trovano più l'utile anche economico per stare lì e invece la vera scoperta che diventerà fondamentale anche quella del continente in sé ma la vera scoperta che fa colombo assieme a tutti coloro che si stanno muovendo in quel periodo meglio guardarli come un gruppo secondo me è che ci sono c'è anzi un sistema di venti e di correnti che intercettato il quale permette di affrontare l'atlantico viaggiando avanti indietro come prima era impensabile fare cioè la vera scoperta che immediatamente dopo le isole canali si trovano degli dei venti regolari di alisei che permettono di viaggiare e intercettare dopo correnti altri venti che costituiscono un sistema appunto sufficientemente regolare per andare verso occidente e non solo per riuscire anche a muoversi su spazi molto più ampi perché grazie a quella scoperta che si riesce a circunnavigare l'africa con una facilità che prima era assolutamente impensabile quindi portoghesi e spagnoli a questo punto si ritrovano davanti davvero una una serie di autostrade di lì in poi a una grande accelerazione è come se improvvisamente l'oceano avesse dischiuso tutti i suoi segreti e avesse reso possibile il possesso del mondo la vera differenza diventa quella se c'è una chiave su cui si deve misurare quello che accadrà dopo tra le tante possibili è il fatto anche soprattutto che comincia una vera e propria gara al possesso del mondo che non può prescindere dal controllo del mare anzi è proprio il controllare il mare che rende possibile possedere il mondo attraverso la possibilità che il mare consente riguardo agli scambi il mare permette di scambiare merci numeri immensamente superiori a quelle delle vie di terra incidentalmente molto spesso anche in modo immensamente più sicuro rispetto alle vie di terra tutta questa serie di elementi per dire che gli spezzi tessuti che già viaggiavano prima adesso diventano degli oggetti derimenti per qualsiasi per qualsiasi società per qualsiasi impero che voglia farsi mondiale è una gara portoghesi poi arrivano gli olandesi si sostituiscono proprio negli stessi luoghi dove si erano insidiati i portoghesi gli olandesi verranno sostituiti dagli inglesi e in questo gioco complicatissimo si arriverà sino all'ottocento cioè al periodo in cui davvero l'europa penserà di doversi potersi impadronire del mondo come se fosse davvero una cosa sua ma questo questa questa fame decisamente cieca e violenta con cui l'europa si sposta e sposta i propri interessi in uno spazio mondiale è legata intimamente al mare possedere il mare e possedere il mondo e possederne le ricchezze per tanti motivi ci sono i ci sono gli approvvigionamenti di pesce la la gara che diventa selvaggia nel vero senso della parola la caccia al merluzzo alle balene successivamente moby dick racconta di tante cose ma racconta anche soprattutto di questo cioè diventa poi un canto sulla 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 sfida alla natura in sé però è parte da una da una storia che era ben nota e ben frequentata negli spazi dell'atlantico ed era ed era abbastanza spaventosa sul piano delle sul piano della dello sfruttamento già allora delle riserve di 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 animali marini e non è naturalmente solo questo è una storia anche di controllo militare e di controllo commerciale in senso lato quello che si comincia a fare da quel punto in poi e controllare quelli che si chiamano in gergo geopolitico ancora oggi colli di bottiglia perché il mare è immenso ma e controllarlo non vuol dire che puoi andare ovunque perché non funziona così ci sono luoghi che non sono soprattutto prima del dell'avvento delle 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 navi a vapore c'erano rotte più facili e rotte o quasi obbligate e poi soprattutto c'è una logica commerciale piuttosto stringente se tu vuoi andare da un punto a al punto b devi per ragioni economiche scegliere la strada più breve o almeno quella che ti permette eh con maggior brevità di arrivare al punto b quindi vuol dire che non vai ovunque vai solo in certi luoghi e per arrivare solo in certi luoghi eh beh devi scegliere certe strade certe strade passano a un certo punto da stretti inevitabilmente da punti attraverso cui le cose eh e le navi devono obbligatoriamente passare se vuoi andare nel mediterraneo dall'atlantico e viceversa devi passare da gibilterra ad esempio ma se tu vuoi passare dall'oceano indiano all'oceano pacifico devi passare eh era vero una volta ed è bellissimo ancora oggi dallo stretto di malacca si passa da lì perché è il punto più veloce del punto più 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 agevole questa parte della storia del controllo del mare probabilmente quella che segna la maggiore continuità e poi si potrebbe andare avanti naturalmente anche in questo periodo con le leggende questa apertura immensa del mare produce inevitabilmente miti fantasie leggende produce un'idea di libertà che è quella che si specchia ad esempio nelle storie di pirati come per è naturalmente dal punto di vista almeno della base del fondamento dopodiché poi ci sono le fantasie ma vale lo stesso ad esempio per le storie di naufragio anche le storie di naufragio sono storie in fondo di libertà e di riscatto o di grande dimostrazione dell'ingegno umano non potevano che nascere dal 600 in poi delle storie che parlano della capacità dell'ingegno umano di vincere la natura e roba d'età moderna nel medioevo non ci avrebbero neanche pensato se stavano se naufragavano naufragavano e basta era tutt'altra cosa ma da quel momento in poi il naufragio quello di di quello di robinson crusoe per eccellenza in che in realtà è probabilmente ispirato a una storia vera di un tale cerchio beh ecco questo tipo di naufragio anche porta con sé anche quel senso e poco alla volta di strade di rotta in rotta si arriva verso i giorni nostri e i giorni nostri che sono fatti di accelerazione sono stati segnati dall'accelerazione per tutto il novecento un'accelerazione vorticosa e spaventosa che quella che in fondo se dovessimo usare un modello facile dove un momento quasi derimente potremmo tranquillamente fotografare nel suo inizio con il con la tragedia del titanic un momento di in cui l'accelerazione inseguita in tutto l'ottocento si fa tragedia e sembra annunciare tutte le tragedie che sarebbero di lì a poco arrivate dal 1912 sarebbe arrivata la guerra e sarebbe arrivata anche sul mare sarebbe seguita un'altra guerra e quell'altra guerra la seconda guerra mondiale avrebbe segnato con con le sue dinamiche una quasi un tragico perfezionamento di quell'idea antica del controllo del mare da quel momento in poi quella storia sarebbe passata dalle portaerei dagli aerei e via dicendo ed è ancora la nostra storia o quella con cui i cui cascami stiamo ancora misurando in questo periodo perché in fondo dopo la seconda guerra mondiale il controllo del mare è stato di un solo soggetto negli stati uniti e per fino ad oggi ma non è più tanto così quello è rimasto il modello geopolitico di riferimento per quanto riguardava la questione perlomeno militare ma anche economica per tanti versi oggi oggi la questione è complicata lo sappiamo tutti anzi ha dei tratti oggettivamente tragici e se si fa una storia del mare minima e decente bisogna davvero finire purtroppo parlando di questo ed è una storia tragica per tanti motivi diversi per una questione di sfruttamento tanto per cominciare quelle risorse di cui parlavamo prima gli animali i beni che il mare fornisce cioè che sono del merluzzo al corallo ecco giusto beh non ce n'è uno che non sia drammaticamente minacciato ormai le tecnologie con cui adesso si sfrutta il mare sono spaventose le reti a strascico delle navi delle gigantesche navi oceaniche che gestiscono purtroppo sempre più spesso la pesca sono sono delle delle tecnologie decisamente cieche perché trascinano con sé qualsiasi cosa tenete conto che più o meno nel mediterraneo a quanto pare adesso la pesca simili tipi di pesca hanno sì che il 70 per cento del pescato sia da gettare in mare o perché sono animali troppo giovani o perché sono animali che non c'entravano niente che vengono trascinati all'interno di questa enorme di questa enorme massa di pescato ci finiscono dentro degli squali che vengono gettati via morti ci finisce ci finisce dentro di tutto e secondo me quando si va in pescheria dovremmo pensarci perlomeno che non vuol dire che non si stia facendo niente sensibilizzazione bisogna lavorare tantissimo ma bisogna lavorare e poi c'è naturalmente l'inquinamento l'inquinamento è una parte derimente lo sappiamo tutti e non ve la starò a tirare avanti troppo però l'oggetto uno degli oggetti ormai della nostra che dovrebbe essere uno degli oggetti della nostra ossessione quello legato soprattutto alle plastiche a una sua a una sua rilevanza come ossessione perché le plastiche contrariamente alla maggior parte delle altre cose e anche delle altre schifezze buttiamo in mare beh queste non si purtroppo non non si le compongono rimangono lì e producono una massa critica intossicante devastante per il mare giusto per darvi l'idea si calcola che si più o meno siano 8 milioni di tonnellate l'anno e qualcuno ha fatto i conti che vengono riversate attraverso i fiumi che portano poi anche a sostanze chimiche un sacco di altre schifezze qualcuno ha fatto un po i conti e come dicono se una volta al minuto un per 365 giorni l'anno un camion della spazzatura riversarsi in mare il suo contenuto una volta al minuto per 365 giorni l'anno festivi compresi io credo forse varebbe la pena di pensare davvero è davvero francamente spaventoso la scala con cui stiamo devastando incidentalmente il nostro ambiente e qui si torna al punto di partenza e anche alla fine di questa mia brevissima chiacchierata perché fare una storia del mare è proprio provare a ricordarsi questo che noi siamo in realtà una specie tra le specie non saprei dire se la più intelligente ce ne sono alcune molto intelligenti delfini lo sono i polpi lo sono terribilmente in forme diverse naturalmente e sicuramente noi siamo la la specie più più devastante e produciamo degli effetti di scala veramente spaventosi sul resto dei di qualsiasi ecosistema che noi abitiamo però siamo una specie e dovremmo ricordarcelo io credo che forse valga la pena pensare a questo come come punto di partenza e soprattutto quella scala di fatta di un'antichità preistorica infinita vertiginosa dovrebbe perlomeno ricordarci che è molto difficile pensare sul serio che su quella scala di quattro miliardi di anni non esistiamo che per qualche secondo noi si sia davvero rilevanti pensare che tutto questo sia stato creato per noi insomma è un atto di egocentrismo non da poco ecco e forse varebbe la pena di 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 metterlo di in relatività rispetto a tutto quello che ci circonda soprattutto oggi appunto dove questa ipotetica nostra questo ipotetico nostro possesso tale non è rischia di essere devastato proprio da noi si potrà resistere perché comunque potrà reggere anche alla nostra cecità probabilmente il mare e reggerà con le sue inevitabili fatiche ad esempio eh aumenterà di di volume per il calore lo sta già facendo e soprattutto si alzerà eh per quel fenomeno che stavo dicendo adesso e anche naturalmente per lo scioglimento dei ghiacci e questo produrrà il fatto che di qui a un po' di tempo qualche generazione alcune città costiere si ritroveranno forse chissà se hanno fatto bene i conti metro più di un metro d'acqua in più perché vuol dire che si va un po' sotto e il mare resisterà si acidificherà lo sta già facendo e questo produrrà il fatto che alcune specie non resisteranno altre resisteranno ha una forza eh ha una forza di 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 resistenza il mare non io non non uso la parola resilienza che mi produce un effetto gastrico è faticosissimo poi dopo da smaltire eh però ha una ha una sua capacità di resistenza il mare che sicuramente per il può permettergli di prescindere da noi può essere può venire devastato ma può permettersi il lusso di aspettare noi siamo transuenti lui molto meno e questo forse è la storia più interessante da rileggere quando si affrontano scale di questa di questa portata ecco cosa mi serviva per me stesso intendo a cosa mi è servito fare una storia del mare ricordarmi ricordarmi uno quello stupore che quello spazio immenso mi dava e provare a renderlo di nuovo naturalmente e due ricordarmi come eh questa storia di specie abbia non solo a che fare con noi ma sia forse anche il punto di partenza o possa essere il punto di partenza per provare a fare eh quello che quando siamo capaci di 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 fermarci e riflettere in fondo ci riesce anche bene cioè prendere un impegno di carattere morale ed etico nei confronti del dello spazio che abitiamo in fondo sì siamo una pessima specie ma abbiamo anche dei guizi di nobiltà che che vanno forse stimolati e in questo senso eh volgersi al mare adesso dovrebbe essere imprescindibile proprio per questo per ricordarci che possiamo essere e possiamo essere uomini migliori ho finito Alessandro hai già finito? Beh sì cioè se vuoi vado avanti quanto vuoi perché io starei giorni ad ascoltarti ed effettivamente la storia del mare è qualcosa di di ancestrale no? Cioè qualcosa che ci portiamo dentro anche senza saperlo sì sì è così e quindi io a questo punto l'unica cosa che posso fare modestamente è quella di consigliare a tutti i nostri videoascoltatori di correre libreria e comprare questo bellissimo saggio storia del mare di Alessandro Vanoli pubblicato da pochissimo da la terza e di immergersi letteralmente nella lettura di di queste pagine Alessandro io vi ringrazio davvero tanto di aver accettato il nostro invito ricordo a tutti i nostri utenti di continuare a seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima video presentazione grazie infinite Maurizio grazie a tutti voi presto stasera vai e corro con l'uvento a grabere le porte della storia stasera voglio dare buon momento la vita allo passato alla memoria stasera con la lampa di l'amore scavo una fossa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti